Avete seguito il caso o no? Una grande occasione per farci conoscere nel mondo Pele Meloni Il rapporto di amicizia è diventata una relazione sentimentale Io su questo terreno non sono ricattato Non ha speso un euro di soldi pubblici Non ci sono segreti di Stato che sono stati svelati a persone che non avevano competenze Si tratta di una questione ormai di gossip Pare che siano molto più gravi altre vicende Chiedo scusa a Giorgia Meloni che mi ha dato fiducia per l'imbarazzo che ho creato a lei e al governo Presidente affiducia nel suo ministro Presidente Meloni Presidente Eh eh mio Dio che circo Eh sì eh sì Allora che cosa è successo? Negli ultimi giorni il ministro della cultura Sì proprio lui Già questo fa ridere Gennaro Sangiuliano è al centro di una polemica riguardante Maria Rosaria Boccia Presidente della Fashion Week Milano Che aveva dichiarato di essere stata nominata sua consigliera di grandi eventi Tuttavia il ministro ha smentito questa nomina affermando che non è mai stata ufficializzata La vicenda è diventata pubblica quando Boccia ha condiviso sui suoi social post mail e documenti Che sembrano dimostrare la sua presenza ad eventi ufficiali Come i sopralluoghi per il G7 e la partecipazione a viaggi organizzati dal ministero Ieri San Giuliano poi dopo lo dico San Giuliano ha partecipato in circa 20 minuti ad un'intervista di Tg1 andato in onda sulla Rai Eh San Giuliano ha negato che siano stati utilizzati fondi pubblici per i viaggi o le spese di Boccia Ha precisato che la nomina non è mai stata formalizzata a causa di possibili conflitti di interesse Sollivati dal gabinetto Boccia però ha continuato a pubblicare prove sui social incluse mail che sembrano contraddire la versione del ministro Sostenendo che tutte le spese erano coperte dal ministero Qua aggiungo che purtroppo non possiamo vedere credo qua su Twitch il contenuto Rai di dove si intervista Boccia Penso ragazzi non lo so perché io lo vedrei molto volentieri insieme a voi questa intervista a Tg1 Non lo so non rischierei Però insomma lui ad una certa fa vedere dei documenti, delle carte, delle transazioni Dove In cui lui dice che quei soldi non erano dei soldi dello Stato, del ministero Ma erano soldi suoi personali Quindi cioè se c'era appunto un biglietto per un viaggio o il pagamento di una cena Non era tutto pagato tramite i soldi del ministero Nemmeno un euro è stato speso dallo Stato Ma erano soldi personali di San Giuliano E ieri durante questa intervista fa vedere dei documenti Quindi ecco chi era il sosia di Vulvia No 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 Smilza grazie tesoro Un bacino Luigi sì grazie mille Ciao Gabri buonasera ricordi buonasera salve Per citare un film di Frank Capra Non drammatizziamo E' una questione di corna Eeeh Eeeh Sni 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 Non è soltanto gossip per quanto mi riguarda quello che è successo E comunque Non è semplicemente una questione di corna Anzi è quello che ha voluto in qualche modo far passare ieri San Giuliano Durante quell'intervista Eeeh Minimizzando anche un pochino la portata no di questi coinvolgimenti E quindi niente Eeeh Io come vi dicevo Non tengo una linea vera e propria precisa Perché Mentre stavo cercando di creare una cartella Alcune notizie le tengo salvate Ogni volta che rifresciavo succedeva che usciva una notizia nuova E quindi Perché ormai è diventata la San Giuliano Mania Instagram è piena di meme Informazioni Boccia che comunque risponde Magari ecco Io andrei a vedere prima l'Instagram di Boccia Eccola qua Maria Rosaria Maria Rosaria Boccia Official Che cosa fa? Ieri appunto Adesso non lo so se le ha tolte le O sono scadute Probabilmente sono scadute le stories Uè Max Salve Buonasera Grazie per l'abbonamento 17 mesi Che bello Grazie 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 Come stai tesoro Che dici di bello Ha fatto uscire questo post Che noi andremo a leggere Però aveva messo anche delle storie Che commentavano Man mano L'intervista Che San Giuliano stava Svolgendo in quel momento Al Tg1 In quel momento Che non so Magari è registrato E riporta Intervista a Maria Rosaria Boccia Vi dico tutto Sul caso San Giuliano Il ministro è sotto ricatto Tra poco il video Esclusivo Oh mio dio Tra poco sulla stampa La mia intervista Subito Subito Quando è uscito Ecco E' questo Link in bio Link in bio Sicuramente ce la farà pagare Volete vedere Eh Eh Oh no 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 Dagli Grande Grande Vedete Stanno uscendo cose nuove Man mano Quindi Riporta questo qua La stampa Bene Allora Partiamo un attimo dal Suo post Che ha messo appunto Sette ore fa Auguri Grazie Max Grazie mille E Allora vi leggo Scrive Maria Rosaria Boccia Official Durante questa vicenda Ho inizialmente Mantenuto il silenzio stampa Per rispetto delle istituzioni Ho scelto di parlare solo Quando il vaso delle menzogne Era ormai colmo Limitandomi a contestare le falsità Per difendere la verità Oggi vengo accusata di essere una ricattatrice Ma in realtà non sono io ad aver creato il ricatto Sono coloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo In questo contesto il potere ha spinto il ministro alle dimissioni Per poi respingerle In realtà San Giuliano dice che ha presentato le dimissioni a Meloni E che Meloni abbia dato fiducia e che quindi le abbia respinte All'interno di una strategia cinica volta a tenere Strategia cinica scusatemi Volta a tenere In ostaggio alla cultura italiana In un momento di visibilità internazionale Non sono io a esercitare ricatti oppressioni Altri hanno sfruttato con mentalità meschina Una vicenda umana Che sta avendo ripercussioni dolorose su di me Sto difendendo la mia dignità Il mio modo di essere donna Sono stata ingannata Ma non permetterò che la mia storia venga strumentalizzata Dal cinismo, dall'arroganza e dal capriccio di un potere tirannico La stampa mi ha definita in molti modi Influencer, accompagnatrice, sartina Una che si vuole accreditare Millantatrice L'Anna Delvei della politica italiana Aspirante collaboratrice Consolatrice Badante E un amore culturale Ma chi ha davvero fatto gossip Io, lui o l'altra persona Sfruttando un momento strategico per il paese Questo è quello che scrive La boccia È sotto Diciamo che ormai no Dato che stanno più o meno memando Sul fatto che sembra Una puntata di C'è posta per te Una puntata di una serie tv Appunto alla Beautiful Vogliamo il falò di confronto Ci siamo appassionati alle serie tv Quando esce la prossima puntata Vogliamo i sequel Eeeh Aggiornaci C'è capi Quindi Insomma Questo è Maria Rosaria Dopo il video clamoroso di ieri sera Non ha intenzione di chiedere un falò di confronto Mi stanno facendo morire Però Sì Ok Fa ridere Ma c'è veramente Tanto su Tanto da pensare Sull'ennesima dinamica politica Che avviene In questo contesto storico Non troppo diverso Diversa come dinamica Da Situazioni che sono accadute anni fa L'impiccio personale Mischiato con la politica Tradimenti Telefoni senza fili Pareri Opinionismi Vabbè Insomma ragazzi La politica italiana Ma qua Veramente se Boccia Detiene appunto Questi documenti Che appartengono al G7 Questa è una cosa grave Questo è Quello che Su cui comunque Bisogna riflettere Ovviamente mi viene da pensare Che E non è Attenzione Io dico In entrambi i casi Cioè Essendo una persona coinvolta emotivamente Ma anche con interessi Politici Interessi di carriera Anna O Anna Maria Boccia Voglio dire Maria Rosaria Boccia Adesso insomma Esce la verità Ed è giusto Sacro santo E onorevole Da parte sua Cioè mi fa piacere Che insomma Abbia trovato il coraggio Di agire Però Mi fa riflettere Quando appunto Per Sentimentalismi O interessi Personali O di carriera Magari se questi documenti Sono veri Perché non denunciare Prima Il fatto Che comunque Tu sei una persona Che Non ha le facoltà Non dovrebbe Avere In mano Determinati Fascicoli Che non le appartengono Di così Grande importanza Tipo quelli del G7 Perché non denunciarlo Prima Che succede Cioè È questo L'unica cosa Che mi fa pensare In realtà Perché Fa ridere tutto Fa ridere tutto Di questa situazione Cioè ancora Una volta Io Mi cascano le braccia Non prendo le parti Di uno o dell'altra Perché poi Lei è donna O cose così Cioè Credo che ci sia Tanto altro È dietro Di non detto Ancora Da parte Di Della boccia Però insomma È l'ennesimo Contesto Teatrino All'italiana Che Che Veramente Fa invidia Ad un film Di vanzina Questo è E Va bene Comunque Questo è il post Di Maria Rosaria Boccia Ma lei Ha rilasciato 37 minuti fa Stava scritto Nelle sue Stories Un'intervista Esclusiva Alle 20 e 13 Guardate Manco 37 minuti Veramente pochissimo Tempo fa Un'intervista Alla stampa E andiamo A leggerla Una Brat Summer Per il ministro Madonna mia Sì Eh sì Perché ha detto Che l'ha conosciuta Poco prima Delle europee Mapu Io vorrei Tanto vedere Vorrei tanto vedere Raga L'intervista Insieme a voi Non lo so Se se può fa La vogliamo vedere Cioè io non so Se posso avere Problemi con Twitch Fracchia Grazie mille Un bacino Come stai tesoro Che dici Dal programma Dell'ottavo nano Sì sì Come no Conosco Conosco Vulvia Guzzanti Certo Ce sono cresciuta Ce sono cresciuta Cioè Non quando ero piccola Lo vedevo Ero troppo piccola Però mio padre Me l'ha fatto scoprire Lussorio Buonasera Il mio è stato ieri 60 da Non credere Ah davvero Dai lussorio Tanto l'età Hai capito È solo Una scritta Un dato anagrafico Che sarà mai Grazie Lussorio auguroni Anche a te Che vogliamo fa Vogliamo vedere Ma sì Ma sì Però prima Leggiamo L'intervista Dai Leggiamo l'intervista Mi piglio Stare responsabilità Sono pazza Caso San Giuliano I viaggi pagati Ricatto Pompei Cosa ha detto Boccia Alla stampa L'imprenditrice Ho sempre saputo Che pagava il ministero Come possono Sottolineare Devi intenziare Le mail Che ho ricevuto Dal capo Segreteria Io e San Giuliano Ci siamo Conosciuti Il 5 agosto Inizia così L'intervista Di Federico Monga In cui Maria Rosaria Boccia Racconta La sua verità Sul caso San Giuliano Quindi non prima Dell'europe Ok Lo accompagnavo Da consigliera Per i grandi eventi Dice Sulle trasferte Spiega Wai Dalf Buonasera Salve Benvenuti e benvenute Grazie Wai Un bacino Grazie mille Stavamo leggendo Le notizie Sul caso San Giuliano Boccia Tutto quello Che era successo Non so se sapete Ma mamma mia Veramente Questo è un ride Mani in alto Mani in alto Ragazzi Che stavate facendo Di che parlavate Wai Che dite di bello Venom Buonasera Salve Noi come stavo dicendo Appunto stavamo parlando Del caso San Giuliano Boccia E' una cosa che sta Appassionando L'Italia Un argomento Ne abbiamo parlato Anche noi Oh daie Daie Cosa ne pensi Cosa ne pensate voi Questa è un'intervista Che Boccia Ha rilasciato Alla stampa Ed è uscito Praticamente Un quarto d'ora fa 20 minuti fa Abbiamo visto Parte La parte 2 Di San Giuliano Più la Derirante Live di Max Leger son Ah E vabbè Sì 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 Greve Cioè Ne ha parlato un po' Ok Michael De Canta E' il nostro Ma no ragazzi Basta con sto Michael De Canta Vi prego E' il nostro San Giuliano No Madonna mia Io ho detto Probabilmente Lo conoscete Ho detto che Michael De Canta E' un utente Che su Instagram Ho dovuto restringere Con le attività Perché ogni volta Mi taggava In ogni Cosa Cioè Ogni cosa Era un tag Mi saccollava abbastanza Sì ma Troppo assai Il bicchiere Veramente troppo Quindi Michael Un saluto Però insomma Cioè Quando ti calmi Probabilmente No ragazzi Veramente è una cosa Esagerata Allora Leggiamo un attimino L'intervista rilasciata Da Boccia A La Stampa Un quarto d'ora fa Quindi Fresca Fresca E poi ci guardiamo Un pochino Di intervista Un pochino Vorrei guardare L'intervista Rilasciata Appunto Da San Giuliano Ieri sera Al Tg1 Della Rai Anche secondo me Hai ragione Non stiamo parlando Soltanto di gossip Qui c'è di mezzo La ricattabilità Di un ministro E lui dice Non sono ricattabile Fabiola Penso che fa ridere Che tutti si preoccupano Del fatto che si sia Nascopada E non della figura di merda Istituzionale A livello internazionale A livello di governo Dell'univinizio Del servizio pubblico Rai Come se fosse Il proprio canale Privato Sì sì Telemeloni Telemeloni Mamma mia Mamma mia Allora Leggiamo L'intervista Di Boccia Fresca Fresca Io e San Giuliano Ci siamo conosciuti Il 5 agosto Inizia così L'intervista Di Federico Monga In cui Maria Rosaria Boccia Racconta la sua verità Sul caso San Giuliano Lo accompagnavo Da consigliera Per i grandi eventi Dice Sulle trasferte Spiega Ho sempre saputo Che pagava il ministero Come possono Sottolineare Ed evidenziare Le mail Che ho ricevuto Dal capo segreteria E segue Il ministro Ha divulgato Informazioni non corrette Sull'auto di tutela Dice Ero sempre con il ministro Non in trasferte brevi Ma sempre in trasferte lunghe Inoltre L'affondo Ci sono alcune persone Che ricattano il ministro Per delle agevolazioni Che hanno avuto Boccia Spiega Che è un'imperenditrice Da vent'anni Ha studiato L'economia All'università Ci siamo conosciuti Il 5 agosto Spiega Riguardo al ministro Della cultura Come possono testimoniare Le foto pubblicate Sui miei social Alla presentazione Per la candidatura Della cucina italiana A patrimonio dell'UNESCO E aggiunge Che accompagnava San Giuliano Come consigliera Per i grandi eventi E ancora Sul suo incarico Inizialmente È stata una proposta E quindi Ho seguito il ministro Per conoscere La realtà del ministero E poi Dall'inizio di luglio È stata istruita La pratica Per diventare consigliera Ma non dice Che è il 5 agosto Scusami Perdonatemi E secondo Quello che dice Boccia Sì Wide Dice Ci siamo conosciuti Il 5 agosto Qua però parla di luglio Vabbè Inizialmente È stata una proposta E quindi Ho seguito il ministro Per riconoscere E poi Dall'inizio di luglio È stata istruita La pratica Per diventare consigliera Vabbè Non si è capito Sulle trasferte Io ho sempre saputo Che pagava il ministero Come possono sottolineare Ed evidenziare Le mail che ho sempre ricevuto Dal capo segreteria Che organizzava sempre tutti i viaggi Sul sopralluogo a Pompei Del 3 giugno Per i G7 Entra nel dettaglio Sì Abbiamo fatto un sopralluogo Per i G7 E il ministro Ha approfittato Per verificare Alcuni scavi Altro noto da sciogliere La mail del 5 giugno Forse voleva dire Il 5 giugno Non il 5 agosto Questa signora Li ha filmati Le registrazioni Giravano i palazzi Sì Con le Ray-Ban meta Sì Sì Con gli occhiali Che registrano Sì Avevo letto La mail del 5 giugno Con o senza informazioni riservate Certamente La mail è stata pubblicata D'Agdago Spia E non da me Il direttore del parco L'ha inviata Sotto espressa comunicazione Del ministro Infatti il direttore Non penso abbia frainteso Proprio nulla Perché non c'erano Tanti testimoni Il ministro È stato molto chiaro E a sottolineare Che doveva recapitarla Anche a me In e-mail C'erano i due percorsi L'alternativa Dei due percorsi Che gli altri ministri Che partecipano al G7 Avrebbero dovuto fare E tutte le informazioni Relative All'organizzazione Maria Rosaria Boccia Spiega anche Che la sua consulenza Per il G7 Era gratuita E riguardo Alla sua consulenza Al ministero Non è andata a buon fine Aggiunge Io ho letto Che è stata firmata Sia da me Che dal ministero Come si può ascoltare Dall'audio Non è andata a buon fine Penso che questa spiegazione La debba Da un'istituzione Non io Questa È praticamente La dichiarazione Della Boccia Per quanto riguarda Questo caso Qui Aggiunge qualcosa Al momento No Mi sembra Non aggiungere nulla Ho sbaglio A meno che Quest'intervista Non sia stata fatta Prima Del Dell'intervento Di San Giuliano Ieri sera Al TG1 Mi sembra Non aggiungere nulla Sta di fatto Che comunque Ci sono Delle mail Audio Suoi Che Vanno a provare Alcune cose D'altro canto Abbiamo San Giuliano Che fa vedere Gli scontrini Gli scontrini No Però comunque Le fatture Della Compera Di alcuni biglietti Per i viaggi Cene Cose così Che riguardano La sua carta personale Quindi non Per quanto riguarda Soldi Spesi da parte Dello Stato Dai A carico Dello Stato Del Ministero Quindi Non so Se è un'intervista Che hanno fatto Ciao Ginny Pure io ti amo Un bacino Noi ci dobbiamo sentire L'idea di fare Una nuova tratta Del treno Roma-Pompei È un caso Non lo so Non lo so Non lo so Non so che dirti Comunque Niente Lui pure Dice no Ma Quali soldi La trasferta Della boccia A Pompei Io vorrei dire Giornalisti Che boccia Abita a Pompei Quindi non ci sono Le trasferte A Pompei Perché lei Abita lì Però poi ci sono Audio Di boccia Che insomma Lasciano intendere Che lei In qualche modo Aveva accesso A contatti Con persone Del Ministero Quindi Era subentrata Era entra pure Le registrazioni Tramite comunque Gli occhiali Gli occhiali Le Ray-Ban meta Come diceva appunto Fabiola prima Che poi Non è che Lo ha fatto vedere Ha mostrato Dei foglietti Con lo screenshot Eh sì 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 C'è stato soltanto Uno zoom Ma adesso ragazzi Scandaloso Eh sì raga Allora Io vorrei capire Un attimo Se posso farvi vedere Fatemi vedere Quest'intervista La andiamo a vedere Ragazzi Vediamo questi 17 minuti Cerchiamo di Non lo so Ci mettiamo un filtrino Sopra Magari Do sta un filtro Dove sta Filtro Eccolo qua Così Tanto per Stare sicuri Filtro Ho aspettato Ci mettiamo pure questo Devo registrare La reaction Il castello delle cerimonie Ragazzi Da mettere sul mio Primo canale Su youtube Ancora lo devo fare Domani esce un rillun Desonore Parlo di Gary Neumann Per un vinile Telecon Che è uscito oggi Cioè Uscì Il 5 settembre Ma oggi Ho fatto uscire Il rillun Metter Ecco qua Allora Dai sentiamo Vediamo un attimino San Giovanni Eh San Giovanni San Giuliano San Giovanni Che Dio mi aiuti Insieme a San Giovanni San Giuliano L'intervista di ieri sera Al Tg1 Su Telemeloni In Rai Prego Vediamo No partono le pubblicità No No Bene Vediamo Fare chiarezza su tutto ciò che ruota Buonasera signor Ministro Buonasera direttore Allora Proviamo a fare chiarezza su tutto ciò che ruota attorno alla nomina Al Ministero della Cultura della signora Maria Rosaria Boccia La questione esplosa il 26 agosto Sono scaturite tutta una serie di polemiche politiche E di inchieste giornalistiche Che hanno sollevato degli interrogativi Sull'uso dei soldi pubblici Sulla sicurezza del G7 Io vorrei entrare subito diciamo nel tema Grazie Come è quando ha conosciuto per la prima volta la signora Boccia? Io l'ho conosciuta Come sono i volumi? Sono i volumi della campagna elettorale per le europee In occasione di una manifestazione Organizzata da Fratelli d'Italia a Napoli Mi è stata presentata da amici comuni Anche se lei poi ha postato una foto autentica Dell'anno precedente del 2023 È una foto dove lei non sta accanto a me Ma sta insieme ad altre persone Che era una delle tante foto Che io ho fatto in occasione di un evento a Pompei Sulla cucina italiana candidata a patrimonio dell'UNESCO Quando ha pensato diciamo di nominarla consigliere E perché? E soprattutto perché poi non l'ha nominata più? Ma li ho affanno Guardi è nata un'amicizia personale Ti odio E lì ne ho riscontrato alcune doti organizzative Capacità organizzative E mi era venuto l'idea di nominarla Sempre a titolo gratuito Perché si è sempre parlato di una nomina a titolo gratuito Consigliere per l'organizzazione dei grandi eventi Poi questo rapporto da rapporto di amicizia È diventata una relazione affettiva Sentimentale Sentimentale Di tipo personale Io ho continuato a portare avanti l'ipotesi della nomina Ma poi mi sono consigliato con alcuni amici legali E con il mio capo di gabinetto I quali mi hanno fatto notare Che pur non in presenza di una giurisprudenza marcata Tutto ciò poteva configurare un potenziale conflitto di interessi E allora io a un certo punto Eccoli, eccoli i foglietti Dovrei avere la pala, cerco un attimino Eccola qui Ho mandato una mail al capo di gabinetto Nella quale lo invitavo A interrompere il percorso di nomina Della dottoressa Boccia Anzi alla fine ho scritto Dunque la nomina non avviene Proprio per la potenzialità di conflitti di interesse Quindi il conflitto di interesse A cui lei fa riferimento nella lettera stampa È un conflitto di interesse Diciamo che la riguarda sentimentale Sentimentale Però poi ci sono anche altri rilievi Che il capo di gabinetto mi aveva fatto Circa la partecipazione della dottoressa Boccia A sue legittime attività di organizzazione di eventi Che potevano entrare in conflitto con i nostri Su questo punto io voglio precisare un'altra cosa Una nomina del genere si perfeziona con l'invio all'UCB L'ufficio centrale di bilancio Questo invio non è stato mai fatto Non è mai avvenuto Non esiste un protocollo Che certifichi l'invio all'ufficio centrale di bilancio E anche il contratto che la dottoressa Boccia potrebbe esibire Che è stato da lei effettivamente firmato Non è stato controfirmato dal capo di gabinetto E quindi non ha nessun valore La procedura è stata interrotta Ma questo accade di frequente Secondo voi che è successo per davvero? Per tante volte noi abbiamo iniziato un iter Perfezionale delle nomine Per fare un po' di speculazione E poi rispetto ad alcune verifiche abbiamo fermato le nomine È avvenuto nel mio ministero È avvenuto in altri ministeri È avvenuto in questo governo È avvenuto in altri governi Lei ha mai favorito Mi dice È successo altre volte Quindi allora sai In qualsiasi modo No Maglio Regala l'abbonamento a Manuzzo Maglio Grazie Maglio Che ruolo aveva la signora Boccia Al ministero Anche se sei un No, guardi Lei sarà venuta qui al ministero Credo Quattro Forse cinque volte Non di più È venuta al ministero In vista di questa nomina Ha incominciato a interloquire Con una serie di soggetti del ministero Ma su aspetti assolutamente marginali Grazie Maglio Del tutto marginali A proposito diciamo di questa nomina La signora Boccia dice che la nomina c'è stata E che poi una voce femminile Le ha consigliato Le ha chiesto di stracciare il contratto Intanto voglio sapere se è vero Se le risulta E se sa chi è questa voce femminile La nomina non c'è stata Quanto alla voce Io ricordo che In una discussione Con Con mia moglie Lei mi diceva Di interrompere ogni rapporto Con questa persona E quindi anche Di tipo lavorativo Potrebbe essere stata Carpita questa conversazione Non lo so Quindi questa voce sarebbe Di sua moglie Potrebbe essere di mia moglie Io non ho ascoltato Questa conversazione Quindi non lo so A cosa fa riferimento Entriamo ancora più Nel dettaglio La signora Boccia Ha partecipato A riunioni Summit Incontri Sul G7 Allora innanzitutto Non ho partecipato Neanche io personalmente Ai vertici Sul G7 Perché se ne occupa La struttura organizzativa C'è una struttura ad hoc Che non è neanche del ministero Che si occupa Dell'organizzazione E' stata qui al ministero E una volta Ha incontrato Il mio consigliere diplomatico E con lei Con lui ha interlocuito Su aspetti marginali Del G7 Tipo il menu Che stavamo approntando Per la cena Oppure l'eventualità Di fare qualche gadget Turistico Di regalo Lì Agli ospiti E io ho detto Alla consigliere di prova E ho detto Guarda Chiedi consiglio Alla dottoressa Boccia Che lei conosce benissimo La realtà Diciamo Di Pompei Però io la conosco La signora Boccia Ha postato una serie Di documenti Sui social San Giuliano Sono documenti riservati Contengono informazioni sensibili E soprattutto Chi gliela ha dati Questi documenti Assolutamente Non sono Né documenti Classificati Né documenti Riservati Dopo l'intervento Del presidente Del consiglio Da Del Debbio Lei ha postato Per esempio Dei documenti Sia pur cancellati Che a noi Sembrano essere Il programma Del G7 Cultura Laddove viene dato L'orario In cui si dibatte Dell'intelligenza artificiale L'orario In cui si dibatte Dei cambiamenti climatici L'ingresso Gli orari Del pranzo Che sono Che è un vero Che è soltanto Un programma Il cui contenuto Tra l'altro Era stato trasfuso In un articolo Online Del quotidiano La Repubblica Quindi documenti Non ce ne sono Quindi lei ribadisce Che non ha In possesso Non ha Cioè poi lei stessa Ha pubblicato Una mail Documenti ufficiali Riguardanti Il G7 Direttore del parco Archeologico Di Pompei E quella Mi riferisco Il quale Forse ha malinteso Le mie parole Al quale Io non ho fatto Un sopralluogo Con la dottoressa Boccia Sempre gli altri Fai intendono Io sono stato a Pompei Per visitare Alcuni nuovi ritrovamenti Non è mai stato a Pompei Con la signora Boccia Si dice Non sono stato a Pompei Con la signora Boccia Sono stato con lei a Pompei Sono stato con lei Ad Ercolano Sono stato con lei A Civita Giuliana Che è un altro scavo Che si trova In quel E non è una trasferta Perché la dottoressa Boccia Come hanno scritto Qualche quotidiano Abita a Pompei Quindi non c'era da fare Alcuna Trasferta Di questo tipo E volevo completare Forse il direttore Del parco Vedete Quindi è tutto registrato Mi è sembrato di un taglio Non lo so Esagerando rispetto Alle mie parole Ha mandato questa mail Ma non è una mail Che tratta aspetti Riservati Della vicenda C'è un tema Diciamo Di violazione Dei parametri Di sicurezza Del G7 Su questi documenti Assolutamente no Nella maniera più categorica C'è una persona estranea Al ministero Che riceve comunque Informazioni delicate No Assolutamente no Anche perché poi La sicurezza Non attiene Al ministero della cultura Lei ha smentito Più volte Che sia stato speso Anche un solo euro Di soldi pubblici Per i viaggi Eccola Eccola La signora Boccia Sostiene invece Che insomma Lei non ha mai pagato Insomma Ma chi ha pagato? Guardi Le due affermazioni Non sono in contraddizione Ed è vero questo Lei dice di non aver pagato Mai lei Ed è vero Anche se in una circostanza Ha pagato Le dirò subito quale E io riaffermo Categoricamente Che mai un euro Del ministero È stato speso Per la dottoressa Boccia Ma chi ha pagato? Ho pagato io Guardi Con i suoi soldi Lei prima? Con i suoi soldi Ma quello che dico io Ma noi Non siamo noi A pagarlo In quanto Ministro della cultura Quindi comunque Che sordo C'è per dire Per dire Per dire Ho pagato io Io l'ho fatta accedere Con lo stipendio Del mio telefono cellulare Con la mia banca Lei ha potuto vedere Le soldi dei contribuenti Ma io dovrei averli qua Ecco Tecnicamente Può vedere no? C'è la qua Questo è un biglietto Di un treno Fatto da me per Milano Quando siamo stati Alla pinacoleia Faccio vedere Sì questi sono gli aerei Per Taormina Vede? Questi sono gli aerei Per Taormina Pagati da me Sulla via carta Di credito personale 500 euro Un biglietto Che fa riferimento Eh sì lo so Pitto Lo so Lo so Però dicevo un po' tecnicamente Se vogliamo fare le pulci Conto corrente personale Tutto questo è certificabile 500 euro Questo è Polignano Tipo prima classica Il biglietto di andata e ritorno Per la dottoressa Boccia L'ho pagato Io di tasca mia Sono cinque i viaggi incriminati Insomma c'è Polignano Milano Brera Riva Ligure Sanremo E Taormina Lui può fare quello che vuole Con il suo stipendio Mai un euro pubblico E così come quando La Jline Uno dice Eh però Da quello che guadagna Si va a fare Cosa dell'armocromo Ognuno può fare Quello che vuole Dico tecnicamente Però Insomma Cioè Farla entrare Anche in contesti Come è Ma se sarà avvenuta Al ministero Quattro Cinque volte Eh no Mi ha dato Ho dato dei passaggi Con l'auto Eh ma per breve tratte Invece lei dice No tratte molto lunghe Eh no ma è sempre stata Mai per utilizzo suo Personale Privato Sì ma comunque Stava Conte Ha utilizzato In qualche modo Cioè capite Ci sono comunque In qualche modo Delle falle Comunque facciamo ridere Proprio in generale Come ha chiarito Ai giornali Ha pagato il sindaco Di Riva Ligure E non con i soldi Dell'amministrazione comunale Ma con i suoi soldi Personali Perché ha un budget Rispetto alle trasferte Il ministero Il ministero Ha un budget Che io ho rispettato L'anno scorso E rispetterò quest'anno Nel quale Molto spesso Io dico Ad alcuni organizzatori Di eventi Che vogliono La mia presenza Se volete Dovete pagare le spese Perché io non posso Superare questo budget Quindi non posso Assecondare Parliamo di eventi Ovviamente correlati Alla mia istituzione Alla mia funzione Non certo Di eventi privati O particolari Quelli me li pago da solo Eh sì Salvo A Sanremo Io ho presentato La biografia di Prezzolini Nell'ambito della rassegna Dei martedì letterari Ha pagato L'organizzazione Di questa rassegna La dottoressa Marzia Taruffi La quale Aveva una conoscenza Antecedente Alla mia conoscenza Con la dottoressa Boccia Le faceva piacere Che venisse E partecipassse A questo evento Quindi In tre casi Ho pagato io A Pompei Non c'era trasferta Perché lei Abita lì E nel caso Di Sanremo Ha pagato L'organizzazione L'ha chiesto di fare E l'ha fatto E Riva Ligure Ha pagato Il sindaco Di Riva Ligure Di tasca sua Torniamo a quanto Ho detto all'inizio Ovviamente la domanda Non ha nulla Di originoso Di gossip Ma che tipo Di rapporto C'era tra lei E la boccia Quando è iniziato E quando è finito Facciamoci un po' I cazzi tuoi Dai Un rapporto Questo mi pesa Doverlo raccontare Perché è una vicenda Che attiene Alla mia sfera privata Beh Un rapporto Di tipo personale Un rapporto Di tipo affettivo Iniziato quando? Ma iniziato Un po' di tempo dopo La nostra conoscenza In ogni caso parliamo Noi ci siamo conosciuti Credo Nella prima decina Nella prima decade Del mese di maggio Eh vedete E poi A fine luglio Diciamo questo rapporto Si è Fine luglio Inizio di agosto Questo rapporto Si è esaurito Stanno uscendo Continuamente Documenti Audio Lei tema Che possa uscire Qualcosa di compromettente Per lei Sicuramente Possono Uscire Le chat Anche se questo Secondo me Sarebbe un reato Beh Le chat Relative Alla nostra Relazione affettiva Ma credo Che tutti gli italiani Che hanno relazioni Di tipo affettivo Scambino Chat Messaggi Si si qui c'è un problema Insomma che un ministro Dovrebbe stare Come dice oggi In ordine Usare molta cautela Questo sicuramente Beh Oggi il fatto quotidiano Come se fosse normale Cioè nel senso Ma credo che tutti quanti Comunque Per gli ambienti di Montecitorio Con degli occhiali Spia Era un uomo sposato Però non ci mettiamo Giudizio morale in realtà Ognuno fa che lega il cazzo Notizia, audio eccetera Ma lei Sapeva O aveva il sospetto Che la signora Boccia Registrasse? Beh a un certo punto Sì E questo è stato Uno dei motivi Per cui ho voluto Diciamo interrompere Perché secondo voi Registrava? Io non Conservo le conversazioni Con nessuno Non ho mai registrato nessuno Anche quando da giornalista Facevo un'intervista Chiedevo l'autorizzazione All'interlocutore Di poterla registrare E poi non voglio pensare Io anche da giornalista Non sono mai stato Un complottista Non voglio pensare Vabbè Maglio Dai È troppo easy Come risposta Anche se alcuni dettagli Emergono in queste ore Non lo so Ovviamente mi spingono A riflettere Sta dicendo che ci potrebbe Essere una regia dietro? No Questo al momento Io lo escludo categoricamente Si voleva tutelare Ok Lei è ricattabile Da cosa? Assolutamente io non sono ricattabile Perché in una funzione pubblica Sei ricattabile Sei usato impropriamente Il denaro pubblico E io glielo ho dimostrato E glielo ridimostro Io su questo terreno Non sono ricattabile E neanche su altri terreni Sono assolutamente ricattabile Ho sempre vissuto Del mio lavoro Aurora Buonasera Valentina Valentina è infiltrata Ma non penso Ma mi sembrerebbe strano Che qualcuno pensasse Di aprire un'inchiesta Su relazioni private E relazioni personali Che sul piano della morale Possono essere censurate Io di questo ne sono consapevole Ma non vedo profili giuridici Perché secondo lei La signora Boccio A un certo punto Decide di ribattere Punto per punto Documento su documento Rispetto ad ogni presa Di posizione sua E del ministero Si è fatto un'idea Ma io posso comprendere La delusione sentimentale Di una persona Secondo me quello che dice Carmen Gini Di confronti Anche perché Io ho più volte ribadito Sì Sotto Grazie Aurora Che io Non intendevo lasciare mia moglie Che per me è la persona più importante Della mia vita Lo dico Sono disponibile a qualsiasi cosa Ma non a rinunciare a mia moglie Oppure la delusione Per la mancata nomina E questo è anche comprensibile Ma che non poteva avvenire Perché io privilegio L'istituzione Rispetto a una convenienza personale La signora Boccio Ha riferito Che ha ricevuto una telefonata Da lei ieri sera Ma perché l'ha chiamata? Io l'ho chiamata Perché dopo che I nostri rapporti Si erano interruzioni Qui vengo Eccolo C'era una gravissima mancanza ieri Che si chiamava Peggle Grazie Peggle 32 mesi insieme 32 come i tuoi anni vuoi Come i miei anni Sì esattamente Peggle Grazie Peggle Vedi l'ho fatto già vedere prima L'ho pure montata Peggle mi ha fatto questo pensierino Grazie mille E poi mi serve Che domani devo pure registrare Mi serviva una cosa che Insomma proprio la ring light Cioè mi piace la forma Nell'occhio della ring light Grazie Peggle Grazie mille Per la Sabina Grazie del pensierino Grazie Un bacino Come stai? Come stai? Stai seguendo questo caso? Top montatrice Subito Subito l'ho provata Molto bello All'incirca l'8 agosto L'ho chiamata Hai deciso di essere Uè Carmen Grazie Si è abbonato a livello 1 Grazie Carmen Bel gesto Grazie mille davvero Grazie per il supporto Grazie 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 Se volete Se volete C'è anche un hype train Ci sta la sab di Peggle Di Carmen Se volete far partire il trenino Magari questo è il momento giusto No Basta Spendente Ma cosa diciamo? Cosa dici mai? Corretta e precisa nelle affermazioni Cioè Lei sa Che Non è stato speso un euro Non è pubblicamente Fabiola Grazie Grazie Fabi Grazie davvero Fabi E l'ha detto solo questo Grazie Fabi tu cosa ne pensi In generale di questa cosa? Abbiamo parlato Di questa situazione Grazie Fabi Per Fabiola Si Si Grazie Donatori anonimo 10 abbonamenti Grazie Donatori anonimo Grazie mille Ma chi è? Grazie Anonimo Mettici il nome La prossima Mannaggia Donatori anonimo 10 abbonamenti Grazie Grazie mille Grazie davvero Grazie 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 Cuori 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 E bacioni Per donatori anonimo 10 abbonamenti Grazie mille davvero Grazie 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 del supporto Non è per niente scontato Vi ringrazio Dai Grazie donatori anonimo Allora Torriamo un attimino indietro Lui ha chiamato lei Ieri sera Perché Come mai All'incirca L'ho chiamata Per dire di essere corretta E precisa Nelle affermazioni Ah quindi a farle tipo Mobbing A farle tipo Oppressione Eh? Attenzione a quello Che dici Cioè Boh Sa Che Non è stato speso Un euro Della pubblica amministrazione Ma che ho pagato io Per le sue trasferte Viaggi È vero che lei Non ha pagato Ciao Carmen Grazie mille ancora Bacino Buona serata E le ha detto solo questo? Sì sostanzialmente Abbiamo parlato Era questo Il motivo Della telefonata Ministro Lei ha accennato prima Lei ha detto che questa vicenda Ha turbato profondamente La vita di tante persone Ecco Si sente di chiedere scusa A chi? Guardi La prima persona A cui devo chiedere scusa No ora Oggi è Ale E mia moglie Poi chiedo scusa A Giorgia Meloni Che mi ha dato fiducia Per l'imbarazzo Che ho creato a lei E evidentemente al governo Chiedo scusa anche Ai miei collaboratori Che impropriamente Pur non avendo fatto niente Si trovano investiti Da questa vicenda Peggol Ieri sera ha incontrato Il Presidente del Consiglio Che cosa le ha detto? Ecco Beh la prima cosa Che le ho detto È Aurora E che io sono disponibile A dimettermi Un minuto dopo Che lei me lo chiede Poi Io ho anche detto Che però Grazie Ale Grazie Said Anche con le prove documentali Prove documentali Attenzione Che questa è tutta una vicenda Di gossip Che mi rendo conto È fastidiosa Ma che le ripeto Non un euro Dei cittadini italiani È stato mai speso In questa vicenda E nessun documento Riservato Classificato O comunque Inerente Attività delicate È mai circolato Il suo pensiero Alle dimissioni C'è ancora o no? Al momento Il Presidente del Consiglio Mi ha detto Di andare avanti E di Chiarire bene In punto di verità Mi ha detto Sì sempre sincero E di sempre la verità Grazie Ecco Perfetto Questo Era Diciamo Il Pre Fallo Di confronto Tra San Giuliano E Boccia